Il film come Batman e Robin è una commedia brillante, con due arzilli vecchietti che somigliano molto ai personaggi dell'ultimo atto di Amici Miei. Sono una strana coppia, Antonio è un anziano irriverente, con un'anima da giovane intrappolato in un corpo da vecchio, mentre Giacomo, se non fosse per l'amico, non avrebbe alcuno stimolo. L'incontro con la prostituta Fatima risveglierà in Giacomo la sua parte giovane. Dovranno aiutare la ragazza a scappare da una banda di cattivi scalcagnati, di quelli che non mollano mai. Qui inizia una rocambolesca fuga che li porterà da Genova a Venezia. Troveremo nipoti imbranati, ci saranno travestimenti e qualche cazzotto, ma alla fine ne usciranno vincitori.